Scopri l'umorismo nascosto tra numeri e teorie. Ci sono uno studente di matematica ed uno di ingegneria all'inizio di un lungo corridoio. Vedono contemporaneamente una bella ragazza in fondo allo stesso. Allora il matematico dice all'ingegnere, facciamo una corsa? Chi arriva primo dalla ragazza può invitarla a cena. Ma a questo punto, avendoli ascoltati, interviene un professore. Fate così, correte per tappe, percorrete ogni volta metà dello spazio che vi separa tra voi e la ragazza. Poi vi fermate e poi vi partite. Ah, esclavo il matematico, io ci rinuncio. Non arriverò mai alla ragazza. Invece l'amico ingegnere, io invece ci sto. È vero che non arriverò mai alla ragazza, però potrò avvicinarmi finché voglio. Alla facoltà di matematica viene organizzata una festa esclusiva, aperta ai soli asterischi. Dopo vari asterischi, tutti molto eleganti, si presenta davanti al buttafuori un punto che chiede di entrare. Uè, ma il buttafuori. Guarda che questa è una festa di asterischi. I punti non possono entrare. Ma va, pistola, non vedi che c'ho il gel? Galileo Galilei sta mostrando le sue ultime invenzioni ad un gruppetto di gentili donne, evidentemente molto interessate. Nel mentre entra Keplero, che avendo già sentito parlare della scoperta del collega, ti slancio a chiede. Telescopi? Galileo candidamente. No, le ho appena conosciute. Alla facoltà di matematica viene organizzato un altro party, aperto a tutte le funzioni matematiche. La f of x ci prova con il seno, derivata e tangente se la ridono, tutte ballano e si divertono, tranne la funzione esponenziale che se ne rimane in disparte in un angolo. La radice quadrata, impietosita, va verso di lei e le dice Coraggio esponenziale, vieni, integrati. E lei sconsolata risponde, tanto è lo stesso. Hehehehe. Battute da matematica, contiva? Alla Grand! E a te? Cabici? Cabici? E le ec Diese le dasseo. di Caddenbridge. Non mi rumpito oggi mai sono scritte le plaroe, tutte le lette treponso a Zesra e pstos di Galaito. E poi un tortale è slovo che la parmia e le uniti alle tertea saino al ptoso che zuo. E l'orteso non ctona. Il cervello è con quune semmerpe in draudide Creyfurt toktue sokoas, perché re non l'gege ongi si lingua al tedrea, ma l'gege la palroa nel suo insmian. Pstio? S'ne od co voi. Ci accaccio sifonamo a Caddenbridge?